Romina Power la dichiarazione straziante fa piangere Albano. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Albano Carrisi e Romina Power, per diversi anni, hanno incarnato l'essenza stessa della coppia perfetta, tanto nella vita privata quanto in quella professionale. Le loro canzoni hanno attraversato le generazioni, toccando il cuore di milioni di persone e contribuendo in modo indelebile alla storia della musica italiana. Nonostante il passare del tempo, le loro melodie continuano a essere riconosciute come autentici classici della musica leggera italiana, continuando ad affascinare ed emozionare gli ascoltatori. Il loro amore ha radici profonde, essendosi sposati giovanissimi e creando una famiglia unita con quattro figli, Ilenia, Iari, Cristel e Romina GR. Tuttavia, una tragedia inimmaginabile ha frantumato per sempre questa famiglia, la prematura scomparsa della loro primogenita, Ilenia. Questo evento ha segnato indelebilmente le vite di Albano e Romina. Mentre Romina continua a nutrire la speranza di riabbracciare la sua amata figlia, Albano sembra avere una prospettiva diversa. La tragedia ha lasciato profonde cicatrici su quella che una volta sembrava essere una famiglia perfetta e un amore indistruttibile. Nonostante abbiano preso strade separate e abbiano vissuto anni di silenzio, recentemente i due artisti hanno deciso di riunirsi per collaborare nuovamente sulla scena musicale, ritornando a condividere la loro magia musicale con il mondo. Nel corso di una recente intervista nello Shoe Verissimo e di Silvia Toffanin, Albano è stato travolto dall'emozione mentre veniva proiettato un toccante video in cui Romina era la protagonista. Questo momento ha rivelato un lato profondo della loro connessione. La madre di Albano aveva donato a Romina una croce che portava al collo, un gesto carico di gratitudine e amicizia. Romina ha condiviso che la suocera la considerava come una figlia, e questa dichiarazione ha profondamente commosso Albano, poiché aveva un legame molto speciale con sua madre.